E' un buongiorno mattino speciale, questo perché ho con me l'assessore alle politiche giovanili, con deleghe giovani in politica e alla tutela delle grondaglie patrimonio artistico dell'UNESCO. Ciano Contini. Ciasc'altro, grazie. Assessore, grazie per essere venuto. Grazie a te, Alessandro Parlimpinto. E un saluto a tutti i radioascoltatori che sei in macchina, sei in video. Assessore, l'ho chiamata perché lei sarà presente ad uno spettacolo di Marco e Pippo, li conosce. Già sentiti, so che sono grandi professionisti, ma soprattutto persone meravigliose, amici meravigliosi. Amici, lei sarà questo spettacolo, Concerto Umorismo, uno spettacolo unico, dove c'è molta musica. Senza altro. E farà che cosa lei? Io oltre a portare il mio classico saluto istituzionale al spettacolo, classico, e farò anche un numero musicale, perché Concerto Umorismo, io ho cantato anche da giovane, sono autodilata, senza altro. e facevamo il cover di Tina Turner. Tina Turner? Ah, Tina Turner. Sì, sì, abbiamo un gruppo che faceva il cover di Tina Turner. Sento come si chiamava il gruppo? No. Cover Tina. Non capisci? Perché cover di Tina Turner, era cover Tina. Cover Tina. Dopo si è passato da moda Tina Turner, ora è come cambiato il genere. Se come buttassero una roba più fresca, facciamo il Cold Blade adesso. Dopo, cover Tina, Cold Blade, no. che si riega Cold Blade, ma noi altri che siamo, e per te abbiamo fatto Cold Blade. Perché prima era? Cover Tina. Adesso. Cold Blade. Buongiorno mattina. Senz'altro.